Si parla di conti questa mattina in conferenza stampa a bilaggio del comune di Pescara, un comune di Pescara che esce da un predissesto, qual è la situazione Assessora? Oggi noi abbiamo presentato lo schema di bilancio che ora sarà sottoposto al Consiglio Comunale, lo schema di bilancio che appava l'aggiunta. Qual è la situazione? La situazione è di un ente che nel 2014 era di fatto strutturalmente in squilibrio, a un passo sostanzialmente era nel dissesto, che invece attraverso le operazioni fatte di ripristino della solidità finanziaria ora invece è un ente equilibrato che dal punto di vista dell'equilibrio finanziario è un equilibrio sostenibile. Quindi c'è solidità nei dati fondamentali del bilancio e tutto questo avviene di fatto senza aggredire i servizi per i cittadini poiché anzi quest'anno sulla spesa sociale la parte che mette l'amministrazione aumenta di circa 500 mila euro e i servizi culturali, le spese per investimento, quindi per la riqualificazione del patrimonio infrastrutturale della città non vengono meno. Ovviamente saremmo tutti quanti lieti di avere più risorse per poter fare più interventi ma diciamo siamo contenti di poter avere uno strumento che noi vogliamo possa essere approvato come peraltro dovrebbe essere sempre entro il 31 dicembre in maniera tale che sin dal primo gennaio il bilancio possa essere operativo. Questo fatto è molto importante soprattutto perché se il bilancio non fosse operativo al primo gennaio noi non potremmo fare la spesa per investimento cioè per tutti quegli interventi infrastrutturali per la città che invece sono particolarmente preziosi. Ma confidiamo di poter raggiungere questo obiettivo appunto e quindi di avere dal primo gennaio lo strumento pienamente operativo. Grazie. 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 Grazie.